Ehi 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 ben ritrovati ragazzi sul tubo del Geco, rieccoci con un altro episodio della quarta serie di The Walking Dead Nello scorso episodio sostanzialmente eramo giunti a Savanna Appena entrati in città qualcuno si era messo a suonare la campana della chiesa e aveva attirato a noi un'orda di zombie Quel qualcuno è la stessa persona, molto probabilmente, che parla da un po' con Clementine al Walkie Talkie Clementine dice che sia una persona buona, che con lei è stato sempre gentile, vuole aiutare a trovare i suoi genitori Però meglio non fidarsi, abbiamo imparato che è meglio non fidarsi E mentre siamo scappati abbiamo purtroppo perso Chuck che per aiutarci si è fatto assalire dagli zombie Io spero che sia ancora vivo perché era veramente un buon compagno di gruppo Chuck Siamo giunti in una casa che siamo riusciti a scassinare, tra virgolette, siamo riusciti ad entrare in questa casa Anche perché Omid, il ragazzo con la gamba rotta, non riusciva più a camminare Siamo andati a controllare i vari piani, io ho controllato il piano terra e Ben e Kenny sono andati a controllare il piano di sopra Kenny si è infilato sostanzialmente in una terrazza, ma adesso stavamo andando a scoprire cosa aveva trovato di portante Kenny 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 Tutto a posto Cosa ha trovato? Cosa sta facendo? Kenny E' ancora un po' scosso sicuramente dalla morte del figlio e della moglie, ma che cazzo? Cos'è? Oh Cazzo Oh Oh Questa è proprio una brutta scena No Non lo so E' diventato uno zombie Ah, non è neanche stato morso sto ragazzino, è morto di fame Ma no, ci pensiamo noi Kenny, tu devi scendere Infatti, facciamo noi Kenny Sei già abbastanza sconvolto, si, si No, non posso farlo fare a Kenny, cioè Gli è appena morto il figlio a farli sparare a un bambino, così Miche poverino Anche perché se lui era chiuso qua in terrazza, cioè, in questo solaio Non poteva neanche scendere, tecnicamente, perché la porta era chiusa Eh, sarebbe veramente potuto essere successo a Clementine se non l'avremmo trovato Vabbè, quella pistola no, anche perché facciamo troppo casino Cazzo, che brutta scena, ragazzi Essere costretti a fare queste cose veramente Ma perché non scendi, Kenny? Eh sì È l'unica cosa da fare Mi spiace Mamma mia Eh sì Hai scelto di fare da solo Sì È forse stato meglio così Dovremmo seppellirlo, è una giusta cosa Puoi fare tutto te lì, fatti la ramana Mamma mia Che brutta scena, ragazzi Eh Ragazzi, devo dire che comunque queste scene Cioè, pur essendo un videogioco, come ho detto Cioè, veramente fatto bene, cioè Ha dei lati divertenti questo gioco sotto alcuni aspetti Però ha anche dei lati molto tristi Ultimamente ci stanno succedendo solo cose brutte, tra virgolette, però Effettivamente in un'apocalista dei zombie non possono succedere cose troppo belle Cioè, poverino, neanche è stato morso questo bambino Questa è la cosa allucinante Neanche è stato morso Vai Ah, palata per palata Va bene Siamo qua fino a domani Un gameplay passato a seppellire Il cadavere Eh sì, Clem Però come sono rappresentate bene queste scene, eh Con queste musiche proprio scelte Scelte giuste Bello Devo veramente fare palata per palata? Ah, pure lo guardo pure io, certo, giusto perché Questo è un gameplay, ragazzi, su come seppellire il cadavere di uno zombie Bambino Ma Cristo E tu che cazzo sei? Hey, hey You stay there a hell away from us, you hear? Che cazzo è quello? Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence Watching us A walker? No, too fast Took off like a bat out of the hill when I spotted him Eh, secondo me era quello della campana, ragazzi Era lui Che era lo stesso del walkie-talkie, secondo me Secondo me Jimmy? I'm fine Just I'm fine What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate What? Who? I can't be sure They ran off before I could get a good look I don't like this one bit Not one bit Me either Walkers Bisogna cercare di capire chi cazzo è quello lì A prescindere che Omid non è in grado di muoversi ma Cioè cerchiamo veramente propiste munizioni, cose che ci possono servire E poi ragioniamo se la cosa migliore da fare è andare sulla barca Perché secondo me non è una grande idea lì E Kenny Allora vattene Kenny che cavolo ti devo dire Ciao Omid con una gamba rotta che non si può muovere ora come ora Siamo appena arrivati E la casa è abbastanza sicura Stiamoci un attimo No no Stai qua che non si sa mai che cazzo incontriamo Solo questa volta infatti Va bene Quindi la soluzione è quella di dividersi Sì perché sei un cretino Sì Sì come l'hai protetta prima quando gli zombie l'hanno Cerchi di essere un attimo più intelligente Non solo Walkers Non solo Erranti Speriamo che Ben sia in grado di proteggere la casa da solo Anche se sinceramente non Non gli affiderei neanche un mazzo di chiave a Ben Probabilmente Infected Siamo all'incrocio tra East Bay Street e Lincoln Street Fantastico Quindi sappiamo almeno dove andare per il porto Kenny ci sei... Sì Va bene Kenny Ok D'accordo Io ti seguo eh Vai Fai strada Via Non spiccica una parola Va dritto Così Vabbè ok Non si può dire niente Eccoci Suonano le campane Mica tanto No aspetta però Che se tipo per sbaglio facciamo un minimo rumore Abbiamo un'orda di zombie in bocca Potrebbe essere Potrebbe essere Beh però buono Se ne sono andati i zombie quindi Magari non l'ha neanche fatta Cioè per farci un favore Magari stava suonando la campana per altri motivi O magari era veramente il timer della campana Non ci sono barca Cosa c'è? Ah L'avevo detto Non mi pare che ci sia No ma Non mi pare che ci sia Non mi pare che ci sia Non mi pare che ci sia Eh però senza barche Kenny è un po' improbabile la cosa Questa è mezza Eh è un po' inutilizzabile questa barca Bucata oltretutto Ma come? Seriosamente? Hai una migliore idea Va bene Va bene Oh cazzo È un muro di 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 zombie Che cazzo fa una cosa del genere? No Sparargli non è proprio la migliore idea Perché sono lì impalati Sono buoni Che poi è veramente un muro Fatto di Di zombie Di persone Dio Di morti Vabbè Ok Guardiamo Torniamo a guardare se c'è qualche barca Ignoriamo quel muro di zombie Impalati Hai un quarto di dollaro lì? Oh Perché? Perché vuoi? Ah per far uscire I soldi Eh ma io non ho Abbiamo moneta lì Andiamo a chiedere a Kenny se ha moneta Io non ne ho Ah no magari lì c'è una cassa Aspetta aspetta Magari dentro la cassa Ci troviamo delle monetine Dai Speriamo What? Certo Effettivamente non ho pensato che sarebbe stato Decisamente troppo facile Ok ha senso baricare il primo piano Ha senso baricare il secondo Ma perché baricare il quarto piano? Cosa sono? Zombie volanti? Oh forse qua dentro Cos'è questo? Il parchimetro? Bacca Che è chiusa a chiave giustamente Spacchiamolo Vai È uscita la monetina Ok mettiamo la monetina E adesso possiamo finalmente vedere Cosa? Cosa ti avevo detto? Eh sì Hai notato il muro Dai che magari ci va di culo Cos'è quello? Barche 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 Aspetta un po' Questa è una barca Vabbè Non è una barca Si può zoomare? Barche Tocca Annie Posso fare il giro completo? No eh Che cazzo c'è là sopra? Tu che cazzo sei? Per fortuna che l'abbiamo visto Mentre guardavamo Col Col Cosa Col telescopio Sai che però Dallo zainetto Mi sembra l'ombra Di quello che ha suonato La campana Io l'andrei a beccare Sì 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 Andiamola a beccare So basta Siamo due due uno Giusto Sì è vero E che Se non fosse uno solo Ma ci fosse qualcun altro Non è che ci ha visto Si è abbassato apposta Dove è andata? Ops Aia È abbastanza veloce Il tizio È abbastanza veloce No 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 Clementine What? Come cazzo ha fatto Arrivare fino qua Clementine? Ben? C'è una cosa Doveva fare bene Era sorvegliare Cioè effettivamente Ci ha salvato Però perché? È arrivata fino a qua Oh ma la tipa Ehi Stai buono Kenny Non sparare Però è sveglia la ragazza E sveglia parecchio la ragazza Ci farebbe comodo Cioè Ficcate voglio capire Se è quella della radio lei Perché se non è così Ma che cazzo è che cazzo è Sì cos'è Crawford Perché ce l'ha chiesto così tante volte Cosa significa? Ah sono quelli che hanno creato quella carissima barriera No era tipo un uomo quello che ci guardava Era un uomo quello che ci stava guardando al recinto Però chi sta suonando le campane? Sì Però la voce Al walkie talk Era un uomo Quindi non è stata lei E non è effettivamente Un ragionamento sbagliato È sveglia sta ragazza Effettivamente Clementine Che cazzo ci fai qui? Com'è fatta ad arrivare? Però fare la strada alla sola Clem Dai veramente Sì è stato È stato un bel colpo di fortuna Avere Clementine lì Però Ha rischiato Sono dei grandi cazzoni questi di Crawford A quanto pare Speriamo di non dover imbatterci anche loro Cioè hanno abbandonato i bambini e gli anziani Perché non erano Mamma mia Si sono sbarazzati tutti quelli che non potevano dare un contributo Li vedevano come inutili bocchi da sfamare Mamma mia Speriamo veramente di non doverci imbattere in questi di Crawford Perché sembrano veramente delle tesse di cazzo Minchia Eh cercavo una barca però Sembo che non ce ne siano E infatti Come immaginavo Perfetto lì Il tuo piano non funziona molto Cosa? No Zombie Perfetto Ok dovremmo combattere o La vita dove siamo venuti Perfetto Sei già partita Ottimo Miglia Assassin molly qua abbiamo Dai Clementine Commuovila che ci darà una mano Commuovila Vai Dai Kenny sali 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 Merda 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 Vai Ma che cazzo Kenny Non sei buono manco a tirarmi il suo No no non crepiamo Quello Spingilo E richiudilo Richiudilo Zombie anche di là Perfetto Siamo Fottuti Sali sopra Sali sopra al coso E come? Cazzo Veloce Veloce Wow Questi non si buttano di sotto Vero? Ok Siamo salvi Ma Oh cazzo Ma ci siamo persi Il resto del gruppo Gentilmente zombie Non tuffatevi di sotto Grazie No Ok Ok Siamo soli Nelle fogne Di savanna Perfetto Beh teoricamente Gli zombie Non dovrebbero aver raggiunto Le fogne No? Teoricamente Si spera Vabbè Ragazzi Quindi come ho detto Nel prossimo episodio Avremo di uscire Da queste fogne E ritornare da Da Clement E negli altri Alla casa Questa molly Che abbiamo incontrato Ci sta dentro Nel senso Il fatto di suonare le campane Per far spostare gli zombie Non è un'idea così sbagliata Non possiamo neanche abiasimarla Perché Lei non sa Poteva sapere Che noi stavamo passando In quella strada Effettivamente Quando ha fatto suonare la campana E allo stesso tempo Stava cercando Di pararsi il culo Quindi Non l'abbiasimo Speriamo di non doverci Imbattere Nei tipi di Crawford Che a quanto pare Sono gente Parecchio fuori di testa Ma sicuramente Lo scopriremo Nelle prossime puntate Se l'episodio vi è piaciuto Ragazzi Lasciatemi un bel pollicione in su Commentate qua sotto Fatemi sapere cosa ne pensate Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Noi ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Ovviamente qua Sul tubo del Geko Ciao Ciao